Parte di slancio il campionato di Serie D con una prima giornata, quella del 19 settembre, subito con due derby. Nereto Chieti mette contro la squadra del presidente Bartolini, trasferitasi da Giulianova al centro della Valle Vibrata, con diversi calciatori ex-giuliesi che hanno seguito il medesimo tragitto, ma con una nuova panchina, affidata a senigalliesi. La neopromossa Chieti, che confide in una stagione diversa rispetto all'ultima in D, annata 2019-2020, e per questo ripone fiducia nel confermato tecnico Lucarelli. E poi Pineto Castelnuovo, confronto tra due abruzzesi che vogliono essere protagoniste, Pineto tra le candidate alla vittoria finale, Castelnuovo che vuole competere per un piazzamento play-off, entrambe in continuità tecnica, da una parte Marco Pomante, dall'altra Guido Di Fabio. Continuità anche per il notaresco, c'è Massimo Epifani, ma bisogna trovare l'eredità di Banegas, indiziati Maio e Valenti. Per un'altra pretendente alla vittoria finale, primo test lontano dal Savini, trasferta a Fiuggi. Trasferta anche per la Vastese e banco di prova subito severo sul campo della retrocessa Fano. Rosa in buona parte rinnovata, ma anche qui una conferma in panchina con la permanenza di Fulvio D'Adderio. Seconda giornata senza derby. Chieti Fiuggi, Matese Nereto, Montegiorgio Pineto, Notaresco Trastevere, Vastese Vasto Girardi e Castelnuovo Fano, gara questa che si giocherà a Pineto, come anche alcune successive dei Nero Verdi del Vomano, il cui campo è interessato da alcuni lavori. Quindi ancora due derby alla terza giornata, Nereto Notaresco e Castelnuovo Vastese, e poi Alto Casertano Pineto e Porto d'Ascoli Chieti. Non è prevista alcuna giornata con tre derby, e dunque nella quale le abruzzesi si scontrerebbero tutte tra loro. Saranno due i turni infrasettimanali nel girone d'andata, entrambi a dicembre, mercoledì 8 e mercoledì 22. In questo secondo caso si disputerà la penultima giornata di andata, che precederà la sosta natalizia con ripresa delle austerità domenica 9 gennaio per il Giro di Boa. Altra sosta, quella del torneo di Viareggio, non si giocherà domenica 13 marzo. Turno pasquale di giovedì, 14 aprile, e chiusura del campionato il 15 maggio. Tra la fine del mese e il primo weekend di giugno, la disputa di play-off e play-out. Nel girone F ci sono anche sette squadre marchigiane, Fano, Castelfidardo, Montegiorgio, Porto d'Ascoli, Recanatese, Tolentino, e quella X che persiste, che sarà la San Benedettese, col proprietario Roberto Renzi però, che dopo l'accoglimento del ricorso da parte del Tar del Lazio dovrà ottemperare ad una serie di oneri finanziari di una certa consistenza prima di avere l'ok della Fedecalcio. Due laziali, Rieti e la New Entry Trastevere, una Molisana, Bastogirardi, due campane, Matese e Aurora Alto Casertano, che gioca le sue gare interne a Capriati al Volturno. Si attende l'ufficialità, ma è probabile che le prime tre partite della San Benedettese contro Trastevere, Recanatese e Fiuggi possano essere rinviate per dare modo alla squadra di prepararsi. La stagione potrebbe iniziare la quarta giornata con la stracittadina col Porto d'Ascoli.